Intervistato Mariani, complimenti per la vittoria, tre punti importanti. Sì, tre punti importanti ci permettono di rimanere lì in alta classifica, dopo la sconfitta con la Totti ci tenevamo comunque a riprendere il passo. Sono arrivate altre vittorie importanti, siamo soddisfatti. Magari oggi un po' più sporchi, un po' più brutti, l'importante era vincere. Loro arrivavano da Sbeta, una bella vittoria con la Lazio, quindi erano in fiducia. Siamo soddisfatti così, tre punti importanti. Un po' più sporchi, un po' più brutti, ma avete approcciato la partita nel modo migliore, siete partiti subito a razzo. Sì, subito forte, abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare, poi forse loro sono usciti fuori, noi ci siamo abbassati un po' di più. Comunque siamo rimasti lì, compatti, penso sia una vittoria più che meritata. A tuo avviso qual è la forza di questa squadra? Il gruppo, siamo un gruppo affiatato, sempre gli stessi giocatori vengono il lunedì, quindi le conseguenze è stato molto più facile. Quindi penso che la nostra forza sia questo. Magari molte squadre non è tanto una critica, puntano tanto su nomi grossi, su nomi importanti di curriculum. Noi abbiamo penso i giocatori più giusti e siamo un gruppo molto affiatato e penso che sia quello che adesso sta facendo la differenza.